650 ucraini in provincia le regole per l'accoglienza partono corsi d'italiano per includere famiglie ucraine contagi risaliti a mille casi ogni 100.000 abitanti d'altro giro al popolo ucraino la generosità di gulliver calcio la di spesero sfida la capolista modena buona serata a tutti voi telespettatrici e telespettatori di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 18 di marzo apriamo occupandoci del flusso di cittadini ucraini nella provincia di pesero e urbino questa mattina infatti la questura ha fornito un quadro di numeri e regolamenti di questa delicata fase di gestione d'accoglienza numeri crescenti e regolamenti precisi la questura di pesero urbino ha fatto oggi il punto su quella che l'attuale portata e la gestione sul nostro territorio del flusso migratorio ucraino obbligato dai drammatici eventi bellici ad oggi sono presenti ufficialmente dato ufficiale appunto e sono 654 nella provincia di pesero la maggior parte nelle due città di pesero naturalmente e fanno circa i due terzi sono presenti in questo territorio sono soprattutto donne e bambini minorenni minorenni sapete benissimo perché gli uomini non possono uscire dalla 18 60 anni non possono uscire dall'ucraina per per la per la guerra quindi soltanto queste queste donne e questi bambini possono arrivare in questo territorio i numeri stanno aumentando giorno per giorno e devo dire che c'è la grande disponibilità della popolazione popolazione ad accogliere a raccogliere queste queste questa povera gente povera gente che scappa dalla dalla propria terra appunto per raggiungere un po di per la sicurezza e per la propria serenità familiare un'accoglienza regolamentata con criteri precisi e gestita attraverso aperture straordinarie I cittadini ucraini godono dell'esenzione del visto per turismo quindi tutti coloro che sono in possesso di un passaporto biometrico e hanno il timbro di ingresso nell'area Schengen possono permanere liberamente tutta l'area per 90 giorni ogni 180 giorni quindi sostanzialmente sono regolari sul territorio nazionale tuttavia la comunità europea ha previsto per loro nel caso in cui vogliono permanere più di 90 giorni e il conflitto non vada verso una risoluzione la possibilità di un rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo permesso di soggiorno temporaneo che è destinato proprio ai cittadini che fuggono dalla guerra e che quindi erano residenti in Ucraina prima del 24 febbraio del 2022, inizio del conflitto il governo sta per emanare il decreto che recepisce la direttiva della comunità europea e che regolerà anche tutta la platea di cittadini ucraini che potranno avere accesso a questa tipologia di permesso noi come Ufficio Immigrazione per far fronte a questa emergenza abbiamo predisposto delle aperture straordinarie dedicate solo ai cittadini ucraini sia per lo sportello di Pesaro che aprirà eccezionalmente il martedì e il giovedì il pomeriggio e il sabato mattina solo per gli ucraini lo sportello di Fano presso il commissariato di Fano che farà un'apertura straordinaria di lunedì e aumenterà gli appuntamenti negli altri giorni dedicati martedì, mercoledì e venerdì e il commissariato di Urbino che aumenterà gli appuntamenti quotidiani aggiungendo alcuni appuntamenti giornalieri per far fronte all'emergenza ucraina Gestione dell'accoglienza ma anche gestione attenta dei protocolli sanitari Sostanzialmente tutti i cittadini ucraini che entrano sul territorio nazionale entro 48 ore dall'ingresso devono fare un tampone per la verifica della presenza del Covid Dopodiché devono fare cinque giorni di autosorveglianza Per loro che hanno un basso tasso di vaccinalizzazione per il Covid ma anche per altri vaccini il Governo e il Ministero della Sanità hanno predisposto un percorso particolare per cui nel momento in cui approcciano agli UB dedicati per i tamponi c'è tutto un percorso di presa in carico e di gestione del cittadino che così inizia un percorso all'interno del territorio nazionale per poter poi mettersi in regola con tutte quelle che sono le nostre previsioni sanitarie, normative e tutti gli aspetti che ne conseguono Alle regole per accedere sul territorio ci sono poi le procedure precise per ospitare i profughi L'unico obbligo che ha un cittadino che accoglie un extracomunitario in genere e quindi anche un cittadino ucraino è quello di presentare la comunicazione di ospitalità comunicazione di ospitalità che va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza e quindi a Pesaro è il questore, alla questura di Pesaro da noi all'ufficio immigrazione a Fano è il dirigente del commissariato di Fano e quindi va presentata al commissariato di Fano per Urbino è il dirigente del commissariato di Urbino e quindi al commissariato di Urbino per tutti gli altri comuni della provincia è il sindaco del rispettivo comune e quindi va presentata al comune e in genere sono le polizie locali che si interessano di questa ricezione Non solo accoglienza anche inclusione Rientrano infatti in questo discorso i corsi d'italiano che partiranno martedì in città in favore delle famiglie profughe ucraine arrivate sul territorio Continuano i flussi di persone, mamme, con bimbi, adolescenti dall'Ucraina A Pesaro vediamo già centinaia e centinaia di ucraini che sono arrivati nelle ultime settimane e quindi noi con l'urgenza di aiutare abbiamo creato questo nuovo progetto che si chiama Lingua Interpares per dare sostegno a queste persone a integrarsi nella nostra società partendo soprattutto dalla lingua che è fondamentale per un'integrazione totale quindi un'integrazione lavorativa, culturale e sociale Il progetto è già stato creato, è già in piedi e partirà da questo martedì è un progetto attualmente, abbiamo 120 iscritti sia online che in presenza Senza sapere la lingua e senza conoscere la cultura del posto dove vieni è impossibile l'integrazione appunto per questo stiamo cercando di aiutare i rifugiati dall'Ucraina per superare questa barriera C'è stata una grandissima volontà dai miei colleghi insegnanti d'italiano che saranno volontari si sono già iscritti e hanno preso in carico diversi gruppi che abbiamo già suddiviso in base al territorio, in base alla disponibilità oraria e quant'altro Si svolgeranno all'interno dell'oratorio Santa Maria di Loreto, qui a Pesaro L'idea è quella di attivare i volontari singoli, quindi quel volontariato spontaneo quei cittadini virtuosi che fanno la città accogliente quindi non sono state messe in campo associazioni di volontariato ma il desiderio è quello proprio di avere volontari spontanei quindi tutti i cittadini che possano poi intervenire attraverso il sostegno a coprire dei turni di corso o poi a costruire relazioni virtuose di accoglienza verso i profughi Sopraluogo e indagini dei carabinieri di Pesaro ieri al campus scolastico dopo che è circolato sui social un filmato di una studentessa dell'Istituto Benelli picchiata da alcune compagnie di classe proprio nelle aree esterne del campus Un episodio di bullismo e cyberbullismo arrivato proprio all'indomani della campagna di sensibilizzazione ai pericoli della rete promossa nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in Piazza del Popolo Bandiere a mezzasta all'istate a lutto e minuto di raccoglimento di tutti i dipendenti dell'area vasta 1 in occasione della giornata nazionale istituita in memoria delle vittime del Covid-19 Un coronavirus che ha profondamente calato la sua fase emergenziale anche se da una decina di giorni è tornata quotidianamente a salire l'incidenza di contagio raggiungendo oggi di nuovo la cifra tonda di mille casi ogni 100.000 abitanti nelle Marche Oggi i contagi sono stati 2.862 in regione di cui 454 in provincia di Pesaro Urbino I ricoveri sono 191 di cui appena 10 in terapia intensiva 7 i decessi registrati oggi per un totale di 3.658 lutti da inizio pandemia Le immagini che vi mostriamo ora riguardano Diana, talento musicale di appena 9 anni fuggita dalle bombe di Kharkiv e che ha raggiunto Pesaro dove sarà ospitata e dove potrà continuare a studiare musica alle conservatorio Sarà lei domani alle 18 ad aprire la festa di Pesaro, capitale della cultura 2024 che si terrà al centro Arti Visive Pescherie una festa che proseguirà tutta la sera con interventi dei protagonisti del percorso di candidatura seguiti da altre performance musicali di band del territorio e questa mattina un settimo parco di quartiere a Pesaro si è arricchito di un altro gioco per bambini donato dalla Onlus Gulliver attraverso il progetto Altro Giro Due altalene nuove di zecca, due doni alla città gli ennesimi della Onlus Gulliver che un po' in tutti i quartieri cittadini continua a installare nuovi giochi per bambini oggi ad esempio siamo al parco Campo di Marte di Baia Flaminia e qui si è verificato l'ennesimo episodio di Altro Giro questo progetto che attraverso i ricavati delle attività della Onlus Gulliver centro del riuso e altre attività porta poi alla donazione di questi progetti concreti per la comunità qui a Baia Flaminia è il settimo gioco appunto donato dalla Gulliver alla città Devo dire che la città sta rispondendo perché le donazioni sono state tante tra domestici, di mobili, di abbigliamento e parte insomma del ricavato di questa vendita viene destinato alla comunità quando si regala un gioco è un gesto apparentemente semplice, facile però che dà grande soddisfazione ai bambini, ai genitori, ai nonni e soprattutto anche a chi dono e soprattutto grazie a Gulliver e ai tanti volontari che danno una mano alla città Altro Giro è donare giochi e solo per una delle tante attività della Onlus Gulliver attività che si moltiplicano come quelle legate alla accoglienza dei profughi ucraini Aiutiamo tantissime persone sia nel pesarese che ultimamente purtroppo abbiamo a che fare anche con tantissime famiglie provenienti dall'Ucraina Bruttissimo periodo e quindi noi come associazione doniamo sia discorso di cibo quindi anche discorso di pannolini omogenizzati perché purtroppo arrivano anche tantissimi bambini Più doniamo anche ovviamente tutto gratuitamente abiti uomo e donna e ovviamente per i bambini Tante attività che la Gulliver non potrebbe realizzare senza il crescente apporto dei volontari Volontari che arrivano anche dall'estero come Fabrizio e Morgan dalla Germania e dalla Francia Ho cercato su internet e ho trovato il progetto in Europa con Vicolo Corto e Gulliver A Gulliver sono qui per aiutare le persone e con le altre ragazze ho iniziato un progetto Cucciamo borse da mariette Voglio dare un contributo alla società Per questo faccio questo progetto di volontari Per aiutare la gente per contributare Compie 30 anni Casa Moscati Domenica scorsa ricorreva infatti l'anniversario di una lunga storia di accoglienza e sostegno ai malati Di IDS che approfondiamo attraverso le interviste realizzate da Giorgio Ricci Trent'anni di Casa Moscati Nel 1992 Don Gaudiano assieme a Paolo Pierucci Pensò di aprire una casa di accoglienza per ammalati di alza Alcuni casi erano già conosciuti e ospitati da Don Gaudiano come comunità di via del seminario Era necessario trovare un alloggio riservato a loro per offrire loro domicilio, casa, abitazione, cibo E soprattutto persone che si prendessero cura della loro salute Negli anni, in questi 30 anni, sono passate per Casa Moscati circa un centinaio di persone La situazione attuale è molto migliore di quella degli inizi Perché agli inizi non c'erano terapie che salvassero la vita di questi affetti da AIDS Oggi ci sono terapie che aiutano a vivere le persone affette da questo virus In una qualità di vita senz'altro migliore Queste persone hanno alcune necessità Che sono quelle, in primo luogo, di avere una casa Dove poter dormire, mangiare, stare al caldo Avere compagnia E poi in questo caso ci sono degli operatori, delle operatrici Che si prendono cura e li aiutano a sopperire a tutte queste necessità Quello di cui ovviamente le persone hanno bisogno quando arrivano nella nostra casa È anche avere un'attenzione molto particolare nei confronti della loro salute Per tutti questi bisogni è pur vero che Casa Moscati gode del sostegno dell'Asur della Regione Perché è una casa che riceve delle rette per questi ospiti E quindi queste necessità sono fondamentalmente molto ben organizzate e molto ben risolte E questo è importante per la vita della nostra struttura Ecco che da qui mi permetto di dire che la vita di una persona non si risolve in un piatto Non si risolve soltanto in un letto O nel nostro caso nella fortuna di avere un servizio sanitario Che ha una cura grandissima nei nostri confronti Ecco, una casa di accoglienza Le persone che vivono in una casa hanno bisogno che questa casa sia bella Perché ognuno di noi è felice anche quando il luogo in cui vive È un luogo bello, ben tenuto, ben organizzato In poche parole avere un ambiente che permetta a noi e agli ospiti che vivono Di starci con piacere in questa casa Partiti i lavori per il percorso Vita di Tavuglia Intorno al campo sportivo di Rio Salso verrà infatti creato un percorso Per coniugare sport, salute e benessere Sarà realizzata una pista pedonale perimetrale all'impianto sportivo Lungo la quale verranno create 5 piazzole di allenamento Con attrezzature per fitness e un'area apposita per praticare yoga I lavori dell'importo di oltre 45 mila euro Sono partiti in settimana e si completeranno entro il mese di maggio Il comune di Cartoceto rinnova invece il suo parco mezzi Con 4 veicoli totalmente full electric Una svolta green dell'amministrazione di Enrico Rossi Realizzata anche grazie all'importante contributo della regione Di 94 mila euro come risorse dedicate al piano per lo sviluppo E la diffusione della mobilità sostenibile Questa domenica, domenica 20 marzo Estra domenica con diversi appuntamenti in città A cominciare dallo shopping arricchito dalla presenza del mercato cittadino In piazzale Carducci al mattino e di quello dell'antiquariato In piazza del popolo via Rossini e piazzale Collenuccio Dalle 8.30 alle 19 Aperti tutti i luoghi della cultura Da musei civici e la sonosfera Al museo nazionale Rossini e casa Rossini Fino all'area archeologica di via dell'abbondanza E quella di Colombarone E poi anche la sinagoga di via delle scuole La casa museo Gentiletti Il museo officine Benelli E naturalmente la biblioteca Oliveriana Domani invece alle 16.30 ci sarà un saluto Alla primavera in dialetto pesarese A portarlo sarà l'artista depositario del vernacolo cittadino Il 93enne Carlo Pagnini Proprio in via Castelfidardo Una via che da anni è agghindata Con tante frasi celebri di Pagnini Che per l'occasione si esibirà In compagnia di Cimini e Gennari Della piccola ribalta Lucia Giommi Maria Grazia Ballarini E Simone Garben Mariotti E invece lunedì 21 marzo Secondo appuntamento dei concerti del conservatorio Dedicato alla musica antica Luca Scandali Pluripremiato organista e docente dell'istituto Si esibirà nella chiesa monumentale di San Giovanni Battista Alle ore 21 In un programma interamente dedicato a Bach E a compositori come Arvo Part e Bar e Bert Batter E ora arriviamo allo sport Un weekend che inizia questa sera Con l'Ital Service Che al Palafiera ospita i torinesi Della L84 Nel campionato di Serie A di Calcio 5 Poi domenica c'è la VL La Carpegna Prosciutto Pesaro Che sarà in trasferta a Varese E in mezzo c'è la grande sfida Di calcio del sabato Al Benelli Fra la Vispesero e il Modena Primo in classifica Un big match che approfondiamo In questo servizio Ultimi allenamenti per una Vispesero Che nel giro di quattro giorni Rimbalza dalla seconda Alla prima in classifica Dalla sconfitta a testa alta di Reggio Per 3 a 1 Al Modena che sabato alle 17.30 Arriva al Benelli Desideroso di piazzare un altro mattone Alla sua scalata alla Serie B Troverà però sulla sua strada Una Vis ottava in classifica E motivata a misurarsi con il top del torneo Vincere una partita sporca Come quella col Grosseto E tre giorni dopo Giocare una partita di contenuti Come quella con la Reggiana Per me è un grande motivo di orgoglio La partita con la Modena Ci farà capire veramente Se siamo pronti A lottare per questo Per questo finale di stagione In maniera importante Si affronta il Modena Ripartendo da una partita Con la Reggiana Grondante contenuti di prestazione Avviliti da un risultato Mal digerito da Banchini Ripeto Mi ha fatto sentire orgoglioso Della squadra Perché abbiamo fatto veramente Dal punto di vista dei contenuti Tante cose positive Tante cose in cui Prima Probabilmente Facciamo delle scelte Più facili E quindi sotto pressione Attraversare E giocare dietro Le linee avversarie Non è una cosa facile A campo aperto Questa partita ci insegna Che come ha fatto La Reggiana con noi Bisogna avere Un pochettino più di calma Di pazienza Io sto lavorando appunto Su questo Però la frenesia Non deve essere Non ci deve accompagnare Perché Quando tu sei frenetico È perché vuoi dimostrare Di voler fare una cosa Perché sai di saperla fare Però quello che mi dà fastidio Che mi Che mi porta la rabbia La carica giusta Per affrontare poi Il mio lavoro Durante la settimana È il risultato Perché questi ragazzi Hanno fatto Veramente Qualcosa di Di eccezionale Perché avere la personalità E la testa E la qualità Di andare lì Tenere la palla Far girare la Reggiana E cercare di imporsi Veramente Ci vuole Ci vuole coraggio Ed è lo stesso coraggio Che ci ha fatto Pressare il Grosseto In tutte le zone del campo E ci ha fatto fare i punti Ed ora Il Super Modena Che arriverà al Benelli Sospinto da 500 tifosi Che hanno già esaurito Il settore ospiti Modena è una squadra Come la Reggiana Top Ha un allenatore Come Tesser Che ha vinto i campionati E dai dilettanti È andato fino alla Serie A E io stimo Ammiro molto E quindi C'è l'imprevedibilità Dei giocatori offensivi La tecnica L'esperienza Una squadra Una squadra Che è bella È bella anche Da preparare Questa partita Perché vedere 5-6 partite Nel Modena Mi ha fatto divertire Al Benelli Sarà anche giornata Biancorossa Dunque Abbonamenti non validi E tutti i tifosi A comprare il biglietto Per aumentare L'afflusso in uno stadio All'altezza Della sfida al vertice Adesso Penso che Tutto l'anno Nella colonna di sinistra Della classifica Parliamo delle ultime Tre partite E tre vittorie in casa Ci siano tutte le condizioni Per aver dimostrato Di creare entusiasmo Dopodiché Penso che Questa è una squadra In cui L'ambiente Si riconosce Perché è una squadra Che sa soffrire Una squadra Che lotta Che combatte È una squadra Che oggi è cresciuta Ha fatto degli step importanti E si può permettere Di andare A Cesena Di andare a Reggio E stare dentro la partita Facendo divertire me Che sono il primo tifoso E quindi Sono convinto E sicuro Che la gente Verrà per aiutarci Sostenerci E poi ripeto A me piacciono Sì i cori Però i tamburi Sono quello Che mi carica di più E si conclude qui Questo nostro telegiornale Ma non si conclude Lo spazio Dell'informazione Dedicato a Rossini TV Per chi ci segue Infatti dopo la prima Edizione delle 19.40 Alle 20 C'è il Vallefoglia Il Pian del Brusco L'Omegasin Appuntamento fisso Del venerdì Condotto dal nostro Edoardo Orazzi Appuntamento alle 20 Prima replica Alle 23.15 E poi la prima serata Questa sera Alle 21.20 Riviviamo Le immagini E i commenti Della inaugurazione Del nuovo reparto Di chirurgia generale All'ospedale di Pesaro Nello speciale Che è stato realizzato D'Antonio Astuti Sarà invece Marco Cadedu A tenervi compagnia Domattina Con la rassegna stampa Del sabato Buongiorno Rossini Come sempre In diretta Alle 7.20 E poi le repliche 8.20 12.30 14.18 Altra diretta È quella Con le sante messe Trasmesse Da Rossini TV Questa domenica Le nostre telecamere Si accenderanno Dalla chiesa parrocchiale Di Santa Croce A Pesaro Appuntamento Alle 11.30 E dunque Tanti appuntamenti In questo weekend Che vi terranno compagnia Ora invece Ci sono le previsioni Del tempo E a me Non resta altro Che salutarvi E lasciarvi In compagnia Dei programmi Di Rossini TV Ora Canale 80